Senti, andiamo verso il tema che avevamo accennato all'inizio, che è un tema molto comune, che è quello appunto della disfaggia, la difficoltà a deglutire liquidi o alimenti più o meno solidi. Vogliamo approfondire come arrivare a una diagnosi di disfaggia, quali sono le indicazioni rispetto a quello che avevamo anticipato all'inizio? Sì, la diagnosi di disfaggia bisogna stare molto attenti, bisogna sospettarla sempre, bisogna cercarla più che vederla comparire. Bisogna anticipare i sintomi, perché ci sono dei segni indiretti della disfaggia che per esempio una logopedista è in grado assolutamente di cogliere. Quando questi esami semplici, quindi un esame obiettivo, appoggiando per esempio il falendoscopio vicino al collo del bambino e sentendo i rumori che fa mentre deglutisce, non sono sufficienti a definire lo stato delle cose, allora si può ricorrere all'analisi, all'esame con le fibre ottiche oppure la videoflorografia che attraverso l'assunzione di un pochino di mezzo di contrasto ci fa capire dove va a finire il bolo alimentare. È un esame che si fa in sedazione o col bambino? No, perché il bambino deve deglutire. Quindi deve essere sveglio vigile. È fastidioso? No, se non c'è un rischio elevatissimo di inalazione. Quindi è un esame che non deve essere fatto, almeno nella nostra regione, è su indicazione della logopedista. Quindi la logopedista prima valuta, fa l'esame obiettivo, analizza tutti i segni diretti e indiretti e poi se proprio ha un dubbio consiglia questa cosa qua. Questo perché ovviamente alla diagnosi di disfagia segue poi un trattamento, quindi bisogna fare una diagnosi attenta. Nel momento in cui si fa diagnosi, cioè si afferma, sia attraverso la visa logopedistica, sia attraverso l'esame strumentale, che il processo di deglutizione, distruzione, eccetera, tutta la funzione orale è patologica, allora ovviamente qui bisogna proteggere le vie aeree e bisogna prendere altre strade. Perché questo l'abbiamo accennato anche all'inizio, il vero problema grande di cui abbiamo parlato è la malnutrizione, però c'è anche questo rischio di inalazione, che è qualcosa che appunto ci preoccupa. Come possiamo gestire questo in casa? Quindi quali accorgimenti può avere la mamma nel accorgerci nei momenti delle prime fasi della diagnosi della disfagia e evitare questa inalazione? Ma ci sono una serie di consigli che le logopediste forniscono regolarmente, primo tra tutti la postura, bisogna essere posizionati correttamente, non bisogna avere il capo troppo flesso indietro, non bisogna essere semisdraiati, tenere il bambino così e far cadere semplicemente l'alimento in bocca, insomma ci sono diversi accorgimenti. Bisogna stare molto attenti e a questo serve la valutazione insieme alla logopedista, quindi se non è poi insieme, non vuol dire contemporanea, vuol dire che anche la logopedista deve valutare alcune volte all'anno un bambino che è affetto da neurodisabilità, perché lei è in grado di cogliere anche segni precoci e segni che un occhio non esperto non coglie e questo succede soprattutto quando l'inalazione è silente, perché passano piccolissime quantità che non danno segni e sintomi o perché il bambino è particolarmente malato e quindi è molto debole, quindi non riesce a fare la tosse, non riesce a reagire come dovrebbe, oppure se le quantità sono molto piccole e quindi non producono un sintomo tale per cui generino preoccupazione nella mamma. Cosa succede comunque a queste quantità, seppur piccole nel posto sbagliato? Succede che vanno regolarmente nelle vie aeree dove poi creano, vanno dove non devono stare, e quindi creano poi infiammazione. Ne possono creare infezioni o polmoniti. Esatto, nei casi più massicci e più gravi si chiama polmonite, vuol dire che c'è un'area più o meno grossa del polmone che non funziona perché è intasata da liquido, i polmoni devono contenere l'aria, non i liquidi e se c'è il liquido quella parte di polmone non respira, non funziona.